principe del rio della plana Enzo Francesco se ne chiamano un altro principe per forte che sia lo si deve al fatto che o gli assomiglia fisicamente o è ispirato a lui perché di principe ce n'è uno solo e Zidane se ne accorge subito quella capacità di pettinare la palla quel modo di muoversi da trequartista che anche una mezzana alle volte triste con poche concessioni emozionali alla partita Grazie per la visione!